Buonasera a tutti, mi chiamo Margherita Bruno, vengo dall'Abruzzo e sono un'insegnante di un liceo artistico e insegno moda. Attualmente sono iscritta anche a Design Moda e sto per presentare la mia tesi e secondo me l'importanza di fare questo corso è soprattutto sia per incrementare le mie conoscenze ma soprattutto per riuscire a sensibilizzare i giovani intromettendo sempre numerosi ed altri argomenti. E questo è un argomento attuale che mi interessa tantissimo, anche riuscire a trasmettere ai giovani. La cultura si inizia dal banco di scuola per poi diffonderla nel mondo del lavoro.